Pronto! Ecco il fabbro nonno Cassio, no quasi novantenne, al lavoro per raddrizzare la lamiera del metalletector Desert Gold Il Cammello, uno specialista degli anni 30-40 che sa far bene il suo lavoro, vecchia roba. Dopo ci fa la firma e il cliente che è interessato ha un metalletector firmato. Vedete che uso lo straccio per non sfriggiare la lamiera come è venuta? Volevo a posto e venuta... No no, lì ancora non c'è da l'oreccia Lì, l'oreccia dove è? Ti ha visto che l'ho fatto in barleda? Eh, l'imbarleda E' la mia? Eh, lì vittata là io E' la mia? Eh ecco, non è in baletta, non è da tutta la e la pistella ecco, non è va bene non è ancora un po' un po' non è ancora 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 un po' tu riesci a buttare qui dentro? dove? non è ancora un po' non è ancora un po' non è ancora un po' perché dopo un po' non è ancora 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 un po' un po' dentro ci sono un po' Questa è perfetta, quella è una pera, quella è una frena. Amo l'arte della battitura, è un'arte. Amo, che spettacolo, quella è un po' meglio, è un specialista. Eh, va bene, va bene. Va a portare la frena, che fai anche quella. Amo, vorrei saldare, bisogna scelgare un po' l'incodine qui in vetta. In dove? Qua? Stai da saldare. L'incodine, se no la scelta è prata. Allora dai una saldare, un caffè a video. Questa c'è posta, mi dica, dà la mola qua alla Cinepresa. No, mi ha tirato fuori 4 da mettere dentro 6 cento. S'ha fatto? No, mi ha tirato fuori 4 da mettere dentro 6 cento.